Aurelio, tante emozioni, tante cose, tu sei sempre una persona che dà la sensazione di non emozionarsi, io invece ti conosco e so che invece tutti emozioni, cerca di non emozionarti e di fare il punto della situazione di questi vent'anni. Allora, io so, è gelato perché non c'è nulla qui. Allora, si è sempre detto che Napoli è un club di passaggio per i calciatori. Falso, perché oggi il Napoli non è più soltanto un club che lancia nuovi campioni, ma anche un loro punto di arrivo. Campioni affermati vogliono venire a giocare nel Napoli. Uno dei migliori allenatori del mondo ha fortemente voluto il Napoli. In una fase dove il calcio mondiale spende meno, il Napoli investe oltre 150 milioni di euro nel mercato estivo. Poi leggo da molte parti, De Laurentiis è impazzito, ha tirato fuori tutti questi soldi, ma veramente l'altro anno dove avevamo vinto uno scudetto abbiamo sbagliato tutti gli acquisti, ma non è che abbiamo speso poco e non è che altri anni abbiamo speso pochi soldi. Io credo che 150 e passa milioni siano alla base di una valutazione di cambiamento totale. E' chiaro che se uno deve dire l'altro anno abbiamo sbagliato, bisogna ripartire da zero, ripartire da zero significa rifondare e rifondare significa anche investire. Questo è stato possibile grazie a un modello di sostenibilità e pianificazione portato avanti dal 2004 ad oggi. In questo senso il Napoli oggi è l'ultimo baluardo che resiste ad un sistema calcio diventato finanza oggetto dei fondi, vendutosi ad interessi molto diversi da quelli originari. Poi bisogna dire che è anche un calcio che non rispetta le regole e falsa la competizione. Noi invece abbiamo dimostrato che un'altra strada è possibile e abbiamo vinto lo scudetto restando fedeli al nostro modello e ai nostri valori. Noi forse siamo l'altra faccia, o forse senza forze, della medaglia e così vogliamo restare. In questi vent'anni abbiamo lavorato molto anche per creare un modello di sviluppo unico basato su tre pilastri. Il primo pilastro è il rinascimento napoletano. Oggi Napoli è the place to be a livello globale e il club fin dall'inizio ha dimostrato che a Napoli si può e si deve lavorare con successo. Poi da alcuni anni stiamo lavorando per enfatizzare sempre di più la bellezza della città e il suo lato più glamour. L'autoproduzione del kit tecnico è la seconda, il secondo pilastro. Grazie a questo progetto innovativo a livello mondiale il club non è più solamente una società sportiva. Ma è diventato anche un fashion brand capace di attrarre marchi internazionali che vogliono far parte di questo storytelling. Terzo pilastro, i diritti d'immagine. Da vent'anni il Napoli detiene il 100% dei diritti d'immagine dei propri giocatori. Ora, dopo una prima fase durata vent'anni, dove abbiamo portato il club ai vertici in Italia e in Europa, adesso inizia la seconda fase, quella di spostare il focus anche su investimenti che consacrino definitivamente l'azienda Napoli e della sua definitiva consagrazione. Il calcio Napoli deve essere consagrato nella sua ulteriore indipendenza. In primo luogo stiamo procedendo ad una riorganizzazione aziendale che vede il Napoli da tre anni strutturarsi come un club più europeo, ossia più implementato in due aree principali, il comparto sportivo e il comparto aziendale, con competenze specifiche. Dall'interazione fra queste due aree dovranno continuare i successi del Napoli del futuro. Il secondo elemento fondamentale di crescita è rappresentato dalle infrastrutture. Come sapete siamo al momento attivi su due progetti fondamentali. Il primo progetto è il nuovo centro sportivo del club, che servirà a dare una casa unica prima squadra e settore giovanile, così da poter lavorare sul territorio come non abbiamo potuto fare nella prima fase della nostra gestione. Qui abbiamo manifestato la nostra volontà al comune su un'area già individuata e che necessita di bonifica, che il Napoli si offre di effettuare a proprie spese senza gravare sui cittadini. Il nuovo centro sportivo permetterà un investimento importante anche nel vivaio per aiutare a far crescere i campioni di domani. Il secondo elemento è l'acquisto e la riqualificazione dello stadio Maradona. Abbiamo creato un gruppo di lavoro interno al club e già dato l'incarico ad uno studio di architettura per pianificare la riqualificazione totale dello stadio Maradona e delle aree circostanti. L'obiettivo non è solo quello di poter lasciare in enedità ai napoletani una struttura moderna e funzionale per il calcio, ma anche poter offrire un'esperienza unica tutti i giorni con aree commerciali e di ristorazione, il Museo del Napoli, un'area interattiva e molto altro. Il tutto ovviamente in attesa del via libera da parte del comune. Via libera a che cosa? Alla vendita dello stadio. Ma su questo siamo ottimisti che il comune avrà la lungimiranza di liberarsi di un costo e regalare alla città un'opera moderna anche in vista degli europei del 2032. Qualora non fosse possibile opereremo da un'altra parte. Non polemizzo, ma sto creando e cercando di assicurare questo evento di un nuovo stadio su altre zone, anche perché la data del 2032 diventa sempre più vicina e bisogna dare questo stadio o rimodulando il Maradona o con la costruzione di un nuovo stadio per poter partecipare come quinto stadio, voi sapete che l'abbiamo condiviso con la Turchia e quindi a noi spettano cinque stadi e quindi per avere lo stadio del Napoli bisogna dare determinate garanzie che avvengano poi tra l'altro in breve tempo. Io di fatti mi sono anche domandato ma come io dovrei dar il via ai lavori al Maradona e quelli già si sono impegnati tutto il mese di giugno in concerti, contro concerti. Cioè voi sapete Napoli è una città complicata da questo punto di vista perché la mano sinistra non va mai d'accordo con la mano destra e difficilmente si incontrano per stringersi una mano. Il terzo elemento su cui esiste insistere nel medio termine è il processo di ulteriore internazionalizzazione del club. Il Napoli ha una base di potenziali tifosi molto alta e noi ci siamo strutturati per poterla attivare entro breve tempo. Qui abbiamo lanciato o stiamo per lanciare alcuni progetti chiave di connessione con la nostra fanbase globale. Davanti a noi vedo un futuro ricco di sfide e di nuove opportunità da cogliere. Nel breve termine avremo l'incredibile vetrina del nostro centenario e siamo pronti a stupirvi con effetti speciali degni dei nostri migliori film. Anche se sono il presidente del Napoli da vent'anni per quanto mi riguarda lo spettacolo è appena cominciato. Posso promettervi che il Napoli fin quando sarà gestito da me e dalla mia famiglia non indietrigerà mai al cospetto di comportamenti ostili e predatori da parte di interessi privati. da parte mia c'è sempre la volontà di costruire un acquisto anche a tutela sia dei nostri giocatori che spesso vengono intrappolati Avevo detto che si emozionava No, perché poi tu sai che c'è sempre il cotè difficile da gestire in certe situazioni italiane Lo so In situazioni che ledono intrappolati in situazioni che ledono in primis loro stessi e soprattutto dei nostri tifosi sparsi in tutto il mondo Il nostro più grande orgoglio è stato quello di vincere rispettando le regole e le persone Continueremo sempre a competere con questi principi 20 anni fa dissi che il mio primo obiettivo era quello di rilanciare la città di Napoli anche attraverso il calcio Oggi Napoli ha riconquistato un'attenzione globale anche grazie al nostro supporto e da Napoli deve partire il futuro di un calcio libero, sostenibile e innovativo Complimenti Un ringraziamento anche all'amministratore delegato Andrea Chiavelli Edoardo e Laurenti che hanno seguito questa avventura dall'inizio